a chi fuma dico guardate che io so l'infesema polmonare e la BPCOA perché ha fumato tanto, pensaci, tutto quello che posso fare è appunto incrociando qualche fumatore dire guarda che prima dei 50 anni pensi di star bene, dopo i 50 anni arriva la batosta, è questo. Nella lotta contro il fumo più che altro si punta sul cancro al polmone, quello alla bocca, sulle patologie oncologiche a livello circolatorio anche, ma sulla BPCOA non mi pare che si faccia molto, non mi pare che si focalizzi molto, forse sbaglio, però io ho avuto quella sensazione. Grazie. 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 Grazie.